Maria Montessori nasce a Chiaravalle il 31 agosto 1870. Maria Montessori inventò mobili adatti per bambini. Apri una scuola chiamata la casa dei bambini. Il metodo Montessori è un sistema educativo praticato in circa 60.000 scuole in tutto il mondo al servizio dei bambini. I metodi di Maria Montessori vengono usati ancora oggi. I metodi di Maria Montessori.